No, quello che succede in campo è rimanere in campo, Acerbi poi si è scusato, è andato un po' oltre con le parole, lui è un bravo ragazzo, poi ovviamente siamo grandi, risolviamo in campo, lui ha chiesto di scusa, siamo andati avanti, spero che non possa cadere più perché lui è un ragazzo intelligente e va bene.